Prima puntata di Schettici 24 pomeriggio dell'anno, ben trovati, Paola Saluzzi torna tra qualche ora con voi, oggi ci sono immeritatamente io a condurre, ma c'è qualche questione che ci portiamo dall'inizio dell'anno e che in qualche maniera bisogna dipanare. Io presento subito gli ospiti, Sergio Rizzo del Corriere della Sera, grazie per essere con noi, l'onorevole Ignazio Abrignani di Forza Italia, grazie, abbiamo plasticamente riprodotto anche il patto del Nazareno, Ermete Rialazzi, Partito Democratico, ben trovato, però c'è una questione importante che riguarda i vigili con i quali apriamo, Daniele Ilari, segretario nazionale, UIL, Federazione Poteri Locali, ben trovato, tra pochissimo, peraltro siamo proprio in Campidoglio con Laura Ceccherini, per capire se sono arrivati questi famosi ispettori che devono farci capire, non solo a noi di fatto, ma ovviamente un po' a tutta Italia e in particolar modo direi anche ai cittadini romani, se questi vigili che dovevano lavorare a Capodanno non si sono presentati perché effettivamente malati o no e se questa vicenda può avere ripercussioni in generale sul pubblico impiego, sui diritti e doveri dei lavoratori pubblici e dei lavoratori privati. Allora andiamo subito da Laura Ceccherini, dovrebbe essere pronta anche perché è una vicenda che continua ad avere mistero sul mistero, oggi devono arrivare gli ispettori, ma Laura da quello che ci raccontavi prima, gli ispettori che devono peraltro analizzare in particolar modo 44 posizioni di vigili su 700 e passa, le 44 sospette, non si sono ancora presentati lì? Laura, ben trovata. Ciao Luca, buon pomeriggio, c'è un altro piccolo giallo, ovvero dall'ispettorato dicono che l'ispezione è in corso proprio in questi minuti, dal comune nessuna conferma. Queste sono veramente le ultime, le ultimissime che abbiamo appreso proprio poco fa. Dunque sarebbe in corso l'ispezione, dunque si cercherebbe di capire e soprattutto di fare chiarezza su quelle 44 posizioni che ricordavi anche tu da studio. Posizioni da studiare, da capire, giusto proprio per identificare qual è stato il problema, se si sono presentati certificati adeguati di malattia oppure se come si sosteneva tra ieri e oggi ci fosse proprio una mancanza di carte. Mentre vi sto parlando, mentre ci preparavamo per il collegamento, ho avuto notizia dalla Will e possiamo chiedere conferma al vostro ospite di una denuncia, cioè dati sballati a causa di un virus nel sistema informatico. Queste sono proprio le ultime notizie che aprendo in questo momento mentre sto parlando con voi. Sì, arriva la denuncia della Will, magari chiediamo conferma anche al vostro ospite proprio di dati, e cioè quei dati per intendersi, per fare chiarezza, la notte di Capodanno molte persone sono state contattate attraverso sms per essere richiamati in turno. Ecco, qui ci sarebbe stata la falla, almeno secondo la denuncia appunto della Will, cioè sarebbero stati richiamati in turno anche pensionati, persone decedute, insomma, che non erano più effettivamente a lavoro e quindi da richiamare, diciamo così. Quindi al momento sembra, e ripetiamo sembra, perché dal Comune non c'è alcuna conferma, che gli ispettori siano proprio qui negli uffici del Campidoglio, del Comune di Roma, proprio per cercare di chiarire alcune posizioni, ma soprattutto per recuperare documenti e materiale vario. Per quanto riguarda invece l'altro fronte, cioè i colloqui che si dovevano tenere appunto con i vigili in questione, per il momento non se ne è tenuto alcuno e soprattutto non c'è stata alcuna convocazione. Queste Gianluca sono le ultimissime notizie. Grazie, grazie Laura. Oltretutto ci hai dato questo spunto dei dati possibilmente sballati. Adesso chiedo subito ovviamente a Ilari di darci qualche ragguaglio. Saluto peraltro anche Marco Conti, del messaggero che ci ha raggiunto negli studi di Roma Cordonata. Ben trovato Conti. Facciamo sì effettivamente subito chiarezza sui numeri, perché qui la vicenda è partita già in maniera strana. Si è parlato subito dell'83,5% di vigili urbani che chiamati in servizio una notte di Capodanno non si presentano. Peraltro sono dei turnisti, come abbiamo fatto l'esempio spesso in queste ore, sono dei turnisti anche giornalisti di Sky di G24, che inizialmente possono decidere se lavorare a Capodanno o meno, anche perché a Capodanno si guadagna, in particolar modo si guadagna, se non mi sbaglio, 3-400 euro in più che su uno stipendio di 1.500 euro. È un ottimo guadagno. Detto questo, molti hanno deciso di non aderire a questo turno, sembra per una protesta contro il sindaco Marino, contro il nuovo comandante, di questo parleremo, ma detto questo, molti hanno anche presentato dei certificati medici. E la maggior parte di questi certificati medici si ipotizza, visto che eravamo di fronte ad una protesta, possano essere falsi. Che dati avete voi? Mentre intanto passano anche i nostri dati, quelli almeno che ci aveva dato il Comune di Roma, che li possiamo vedere, parla dell'85% che non si è presentato al lavoro. Ma io credo che noi di qui dobbiamo fare un minimo di chiarezza su quello che io posso fare, sui dati di cui io sono a conoscenza, perché vorrei prima di tutto sottolineare una cosa, perché questo è un fatto estremamente grave, che oggi siamo al 5 gennaio e noi ancora stiamo ragionando, in termini generali, perché non conosciamo esattamente il dettaglio dei numeri complessivi del personale che doveva essere in servizio, del personale che concretamente ha presentato i certificati di malattia. Mentre lei parla, chiedo alla regia di mandargli questi dati che sono stati ridiffusi anche oggi dal Comune di Roma, perché visto che voi ne avete altri... No, io dico questo, non è un problema che io ne ho altri... Noi non abbiamo formalmente dati ufficiali, perché il dato... Noi dobbiamo fare una premessa, che dobbiamo separare la vicenda degli straordinari dalla vicenda, come lei sottolineava, dell'attività prestata in turno ordinario. Perché la vicenda... Scusi, chiedo sempre alla regia di metterli anche su questi schermi, però se no gli ospiti non possono vederli e non possono commentarli. Prego. Allora, la vicenda del personale straordinario e la vicenda del personale in servizio ordinario sono due cose completamente diverse. Io dico questo, che è stato presentato un modulo di adesione, un modulo di adesione del personale alle forme di straordinario, che praticamente permetteva ai colleghi o ai lavoratori interessati di potersi prenotare entro il 23 dicembre del 2014. Nel senso, per fare chiarezza, chi voleva lavorare? Abbiamo 700 lavoratori che potevano prenotarsi entro il 23 dicembre. Ci ha raccontato un vigile, di solito questi 700 posti vengono presi al volo, perché la gente vuole guadagnarsi questi 300 euro. Guardi, le confesso, accade anche qua a Schiettg24. Io ho voluto lavorare il primo perché prendevo dei soldi in più. Va bene, che mi possono servire? Detto questo, invece, quest'anno i vigili decidono in massa di non andarsi a prendere questi soldi in più. Perché? Precisiamo una cosa, però, prima di passare a questo, che l'amministrazione del Comune di Roma e il comandante del Corpo di Roma sapevano il 23 a sera, 24 dicembre, che non c'era un vigile, dico uno, che si era prenotato per i turni di straordinario. Perfetto. Quindi, con largo anticipo, c'era una situazione in cui, oggettivamente, c'era la manifestazione fondata di una carenza di personale che poteva o poteva presentarsi la sera del 31. Quindi dovono prendere dei provvedimenti. Con ampio anticipo rispetto a quello che è successo. Una cosa sono i turni di straordinario, ok? Un'altra cosa è il turno ordinario. Qui stiamo parlando di un evento. Mi permetta, però, e le chiedo l'ultima cosa, poi coinvolgo anche gli altri. E effettivamente, a un certo punto, questi turni vanno coperti. Quindi chiamano Gianluca Semprini per dirgli tu devi lavorare la notte di Capodanno. Bene, se io non voglio lavorare la notte di Capodanno perché voglio protestare contro la direzione di Sky per qualche motivo, devo fare qualcosa. E posso dire sto male e mando un certificato. Secondo lei è successo davvero questo? Però, questo ragionamento, mi scusi, perché proprio da qui nasce la mancanza di Eriza. Intanto precisiamo una cosa. Io sono il segretario nazionale di un'organizzazione che si chiama la Will che rispetta queste questioni, cioè l'idea di fare lotte di carattere sindacale o presunte tali con la presentazione di certificati medici, lo dico con chiarezza, siamo lontani anni luce. A noi questo tipo di ragionamento non ci interessa. Ne ritengo che ci sia stata, per quanto ci riguarda, ma da parte di alcuna organizzazione sindacale, nessuna iniziativa volta a coordinare o a mettere in piedi una presunta cabina di regia per questo tipo di cose. Diverso è l'attesione allo straordinario, che non è obbligatorio, che è una forma volontaria e che sicuramente è la manifestazione di una grande, grave disaffezione del personale della polizia locale che arriva a rinunciare a 300 e passa euro di salario netto e su cui il sindaco Marino e il comandante Clemente dovrebbero interrogarci seriamente. Le ho dato ampio spazio adesso siamo in tanti. Forse c'è un problema serio da considerare. Chiedo allora un giudizio innanzitutto a Marco Conti, veloce del messaggero, di solito si occupa di politica, magari di temi diversi rispetto a questo, però ci sono state ampie ripercussioni. Quindi da giornalista che vive a Roma chiede a Siffatto e poi a tutti gli altri. Marco? No, ma mi sembra che il sindacalista si arrampichi un po' sugli specchi perché i dati ci sono e sono quelli che avete fatto vedere. Fare la distinzione tra il turno volontario e lo straordinario, per dire noi non ci sono stati, però lo straordinario è facoltativo e quindi si può non fare, è diciamo fa sorridere, sia perché in molte situazioni, in molte aziende, comprese le nostre, come dicevi tu, anche tu è lo straordinario, viene ritenuto ormai in certi momenti... Comunque siamo turnisti nel senso di quei giorni bisogna lavorare, se lavori prendi di più. Esatto, quindi fa un po' sorridere. Dopodiché il problema vero, che non è che è solo per carità Marino e il comandante dei vigili che si devono interrogare, il problema si deve interrogare anche il sindacato, che capisco che fatichi a dover giustificare una lotta sindacale fatta con i certificati medici, però non è che può, come non può sfuggire al sindaco Marino, che questi si preparavano a disertare il 31, possa essere sfuggito ai sindacati, questo sarebbe assurdo, significa che anche loro avrebbero una scarsissima presa nel rispetto ai loro iscritti. Poi c'è il dato di fondo di questa lotta, che il corpo di vigili urbani di Roma sta facendo e cominciamo dall'inizio, da quando è arrivato Marino, da quando è stato scelto il comandante del corpo, poi con errori da parte del sindaco, è stato nella precedente scelta, però comunque c'è un problema vero, questi vigili possono essere spostati come succede in tutte le città del mondo o no?